Comicon 2016, la mostra del fumetto che appartiene a tutti gli appassionati del mondo degli anime e dei manga noi per CulturaColori.it siamo venuti qui a fare le domande a tutti i partecipanti sia in cosplay che non A cosa sei vestita? Da Jessica Rabbit E perché hai scelto questo travestimento? Mi piaceva molto il personaggio e quindi ho voluto interpretarlo in modo mio Senti, il Comicon di quest'anno ti sta piacendo per come è impostato oppure c'è qualcosa che non ti è piaciuto nell'organizzazione? No, soprattutto quest'anno lo trovo molto più organizzato rispetto agli anni passati, questo è il mio quinto anno Qualche problema per entrare perché ci sono lunghe file, un po' se forse sull'organizzazione per smaltire più la folla Ecco, forse solo quello, però per il compresso tutto il resto mi è piaciuto molto Stimpancariel Ok, ti sta piacendo il Comicon quest'anno per come è stato organizzato? Sì, abbastanza, parte il tempo tutto ok Parte il tempo, ecco, molti sono lamentati per esempio delle lunghe file e anche, vabbè, giustamente del tempo ma questa è una questione che non dipende, ecco, magari dal Comune di Napoli Pensi che potesse essere gestito meglio? No, alla fine la gente comunque è tanta, quindi in un modo o nell'altro le file si faranno ovunque Xina perché ci sono cresciuta rappresenta tutta la mia infanzia Benissimo, e il Comicon per come è organizzato quest'anno ti sta piacendo? Oppure c'è qualcosa che ti fa storcere? Si potrebbe fare di meglio, sinceramente, perché tre anni fa l'organizzazione era decisamente migliore rispetto quest'anno Ecco, cosa che non è andato? Forse gli stand all'interno che sono un po' troppo vicini, quindi essendoci la folla ci si turta molto facilmente Prevalentemente questo per quanto riguarda l'organizzazione E' che molti per esempio si sono lamentati della pioggia e dell'eccessiva folla Pensi che potesse gestirla meglio il Comune? Potrebbero far qualcosa di meglio per migliorare la sicurezza più che altro Perché gli steward molte volte purtroppo sono impreparati anche sulle domande più semplici Per esempio indicazioni per quanto riguarda padiglioni, spogliatoi e quant'altro Anche gli spogliatoi sono una cosa che avrebbero potuto decisamente migliorare Perché gli anni passati c'era un po' più di privacy per così dire E mi sono piaciuti molto i gadget nuovi che ho visto Alcuni sono in edizione limitata apposta per il Comic Con E poi vabbè ogni anno cambiano sempre vari eventi come ospiti Per esempio ci sta oggi Silver Lunedì deve venire Abram di The Walking Dead Ogni anno comunque c'erano sempre diversi ospiti Non mi aspettavo che ci fosse tantissima gente Anche per fare le file per esempio Ci sono voluto un po' di tempo Anche perché è iniziato a piovere Ma poi per fortuna ha smesso Deref di Fairy Tail Natsu di Fairy Tail Elefman di Fairy Tail Ah quindi tutti Fairy Tail Vi sta piacendo il Comic Con di quest'anno? Eh sì e no Diciamo che è partito un po' col piede sbagliato A causa della insomma delle enormi file che si sono create all'ingresso La pioggia eccetera C'è stata un po' di disorganizzazione sotto questo punto di vista Infatti diciamo che non abbiamo fatto una fila ma una doccia per un'ora Non mi sembra tanto il caso di accogliere così persone paganti Che entrano in una fiera per essere trattate come persone E non come bestiame lasciato lì sotto l'acqua insomma Certo a te invece è piaciuto? Guarda le stesse motivazioni Ha detto praticamente tutto E adesso soltanto quelle persone che Guardate sotto un cosplay Sotto una persona che fa quel cosplay C'è sempre una persona E ci sono quelle persone che vengono vicine Ti chiedono una foto Però dopo sbagliano il personaggio O non sanno praticamente chi sei E la persona sotto il vestito Si sente male Da quanto tempo fate questa cosa del cosplay? Ma ti dirò a me la prima volta A parte che è anche il mio primo Comic Con A parte a me la prima volta Quindi devo dire che è una cosa che mi piace un sacco Anche perché stando con gli amici Con lo stesso gruppo ci divertiamo Incontriamo altre persone che ci chiedono foto E cose e robe così I gruppi Insomma è una bella esperienza che consiglio di fare a tutti A parte a me la prima volta 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 Grazie a tutti.